Dal 4 al 21 marzo i territori della città metropolitana di Bologna e della provincia di Modena saranno zona rossa, mentre la provincia di Ferrara continuerà ad essere zona arancione. In un comunicato dei vicari generali, inviato a tutti i sacerdoti e diaconi della diocesi, si conferma pertanto la sospensione delle iniziative in presenza, catechismo, incontri formativi, attività di oratorio dopo scuola, di tutti i gruppi parrocchiali e delle aggregazioni, riunioni di qualsiasi tipo come incontri organizzativi e assemblee varie, visite alle famiglie. Per quanto riguarda le celebrazioni liturgiche nei luoghi di culto, invece, non ci sono variazioni. Permane la disciplina attualmente in corso, con tutte le precauzioni già da tempo adottate riguardo la sanificazione, il distanziamento, l'uso delle mascherine. Particolare attenzione va riservata alla autodichiarazione che deve essere compilata da chi deve recarsi nelle nostre parrocchie e strutture, sia che si sposti per lavoro o per effettuare i servizi, sia che vi si rechi per le celebrazioni liturgiche. Gli uffici della Curia restano aperti e funzionanti, ma è richiesto a chi ha necessità di evitare il più possibile di accedervi di persona, utilizzando invece il telefono o la posta elettronica.